E abruzzese la mano dell'artigiano orafo che realizzerà i rossoni siciliani che saranno poi messi in vendita al British Museum di Londra. L'orafo Giuliano Montaldi porta l'arte orafo appunto, ma quella abruzzese, al British Museum a Londra. Come si è arrivati a questo grandissimo risultato? Allora, la nostra azienda partecipa come ogni anno all'internazionale di giovelleria che si svolge a Londra e presso l'Olympia, London, c'è una sezione di goldsmith, cioè di artigiani orafi nel secondo livello. E lì, durante questa mia manifestazione, sono stato contattato dai rappresentanti del British per realizzare i rossoni della chiesa di Sant'Agostino di Palermo. Loro acquisteranno questo prodotto e lo venderanno. Il prodotto sarà venduto nello shop del British? Esatto, c'è questa manifestazione in omaggio alla regione siciliana che durerà lì quattro mesi, dal mese di maggio fino a fine settembre. Con che spirito ha accolto questa iniziativa? Beh, il piacere di entrare in uno dei musei più importanti del mondo, dove ci sono sei milioni di visitatori e essere, diciamo, anche i miei pezzi sono in questo museo così importante. Grazie.